Rieccoci per un nuovo appuntamento con i giornali TV, ben ritrovati da Pasqualino Lettura. Abbiamo già dato un rapido sguardo alle principali notizie, intanto sulle prime pagine del Quotidano del Sud, poi su Gazzette del Sud online e poi anche sui principali titoli dei Quotidani nazionali di Nicola. Ci sono tante notizie di stretta attualità, la questione dei migranti ancora che tiene il banco. Purtroppo registriamo anche per quanto riguarda la nostra regione altri morti sul lavoro ancora alla Mezzia. Soltanto venerdì scorso era morto un operaio di San Pietro Postolo, Antonio Ciambrone, travolto da un'auto mentre segnalava un incidente nei pressi della rotatoria dell'aeroporto della Mezzia Terme. Era un operaio che lavorava per conto di una ditta esterna all'ANAS che era impegnata al rifacimento dell'asfalto nel tratto tra la statale 18 e la statale 280. Altri morti sul lavoro, ancora alla Mezzia perché purtroppo è morto un operaio di 48 anni che è caduto dal tetto di un capannone all'area industriale di la Mezzia Terme. Comunque andiamo a dare subito, a iniziare il nostro appuntamento con il giornale TV, con Gazzetta del Sud Online. Troviamo un altro incidente, questa volta si ribalta con l'auto a Soveria Simile, un 77enne però questa volta è finito in ospedale. Mentre invece, come dicevamo, su Gazzetta del Sud c'è la tragedia di la Mezzia dove un operaio cade da un'impalcatura di 10 metri e muore sul colpo. Poi a Vibo Valencia, sindaca compiaciuta per i risultati, Forza Italia si complimenta con Policaro. E poi c'è questa notizia che arriva da San Pietro Ammaida, il sindaco di San Pietro Ammaida sbotta e vieta i gruppi mamme su Whatsapp. Poi Crotone, Enrico commissario per la bonifica, la priorità è superare l'attuale stallo. E su Gazzetta del Sud Online leggiamo un altro capitolo di una triste notizia, di una tragica notizia, cioè la morte di un 77enne subito dopo essersi sottoposto a un esame diagnostico all'ospedale di Soverato. Intanto si muove la procura per questo fatto, reparti dell'ospedale di Soverato al Setaccio, 74enne morto dopo l'attacca all'ospedale di Soverato. Poi Catanzaro, strutture socioassistenziali e sanitarie in crisi, il Consiglio proverà a usare la Moral Suaison, scrive il Gazzetta del Sud, poi Crotone, 11 roghi divampati a Crotone e provincia, le fiamme propagate vicino case e aziende, a Serra San Bruno, in tanti alla cicopasseggiata nel parco naturale delle Serre. Abbiamo un'altra notizia che riguarda il processo basso profilo, c'è stata la sentenza d'appello, è stata ridotta in Corte d'Appello, la condanna all'ex assessore regionale, il Lamettino Francesco Talarico, è stata confermata l'assoluzione per il notaio Guglielmo. Quindi Francesco Talarico, l'ex assessore al bilancio, ex coordinatore regionale dell'Udc, è stato condannato ora a un anno e quattro mesi, con pena sospesa e annullamento delle misure interditive dalla Corte d'Appello. In primo grado Talarico era stato condannato a cinque anni, quindi la Corte d'Appello ha un anno e quattro mesi, la Corte d'Appello gli ha ridotto la pena, riqualificando il reato di corruzione elettorale semplice, quindi escludendo lo scambio elettorale politico mafioso. Talarico è stato difeso dall'avvocato Francesco Gambardella, leggiamo su Gazzetta del Sud online. Poi ancora su Gazzetta del Sud, Rosa Caine in arte, quindi Rosa Caine sarà ambasciatrice dell'Anduia, di Spiliga, al grande fratello. Poi Vibo Valencia, anche in carcere, ricomincia la scuola insieme a tutte le attività, poi la mezzia terme cade dal tetto di un capannone, dicevamo un operaio di 48 anni è morto, nonostante i soccorsi ci sono arrivati immediatamente, i soccorsi che hanno tentato di rianimare Mastroianni, i soccorsi dei sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, inutile anche l'arrivo sul posto dell'elisoccorso, quindi questa ennesima tragedia sul lavoro, ancora alla mezza. Poi andiamo ad un'altra vicenda che si è conclusa, l'etofine, Luciano Sorbillo, colto da infarto in Calabria, il noto pizzaiolo, appunto Sorbillo, salvo grazie alla telemedicina e alla bravura dei medici. Da Sellia Marina abbiamo questa notizia, oltre 3 kg di cocaina nell'auto, in banette due giovani di Isola Capo Rizzuto, leggiamo sempre da Gazzetta del Sud Online, con cui abbiamo dato inizio al nostro consueto appuntamento con i giornali di TV, proseguendo ancora con le notizie online, quindi dicevamo della morte dell'operaio, la mezza che è caduto da un tetto di un capannone all'area industriale, operario Antonio Mastroianni di 48 anni, come atto dovuto e come succede sempre in questi casi, la Procura ovviamente apre un'inchiesta sulla morte di questo operario di 48 anni, che stava montando un'antenna, per cui c'è ora l'inchiesta della Procura come atto dovuto, insomma è ovvio che è un fatto sempre ovvio, solito che appena c'è una morte sul lavoro c'è la Procura che indaga. A proposito di Procura, questa volta è una notizia diversa, però la nomina del Procuratore Capo a Napoli, Nicola Gratteri, favorito, attesa per la decisione. Poi ancora droga e sfruttamento della prostituzione, arresti e perquisizioni anche in Calabria, poi cambio della Guardia di Finanza in Calabria, il bilancio del comandante generale della Guardia di Finanza della Calabria, Geremia, che lascia un cambio della Guardia, e in generale Geremia fa riferimenti anche sulla Mezzia, sostenendo che c'è stato un gran lavoro sulla Mezzia. Poi sempre alla Mezzia sono state restituite le reliquie di San Francesco d'Assise, che erano state rubate nella chiesa di Santa Chiara, con l'arresto del presunto autore. Poi alla Mezzia Terme, pagamento della Tari 2023, tutte le modalità e le scadenze anche sul quotidiano Il Lamettino, sul giornale online Il Lamettino, inchiesta a basso profilo in appello di qualificazione del reato per Francesco Talarico, ridotta la pena a un anno e quattro mesi, in secondo grado dopo i cinque anni del primo grado. Poi alla Mezzia Terme, osservatori Antonio Saffioti, sull'inizio del nuovo anno scolastico, riapre lo sportello di ascolto. Poi abbiamo questa notizia che riguarda l'olivicoltura, un convegno conclusivo del progetto CREA TRIECOL il 13 settembre alla cittadella regionale. E poi pazienti salvati grazie a telemedicina in farmacia, De Filippo, un servizio per migliorare il sistema sanitario calabrese. Anche qui la notizia dell'incidente del 77enne a Soveria Simeri, rimasto ferito dopo aver perso il controllo dell'auto, morto Franco Galiano, fondò l'Accademia del Cedro, poi alla Mezzia Terme il saluto della dirigente del liceo Galileo Galilei a studenti delle prime classi, alle loro famiglie. Poi ancora incontro a Curinga su Teresa di Lesù sulla via della gratuità. Poi ancora a Catanzaro, congresso sul modus operandi in otologia e audiologia. Alla Mezzia Terme sono stati consegnati i lavori per arredi e attrezzature sportive al nuovo palazzetto dello sport di località stretto. Sono stati consegnati i lavori non conclusi, perché c'è stata l'aggiudicazione alla ditta Camillo Sirianni. Sono stati consegnati i lavori. Ora questa ditta dovrà fornire e montare gli arredi e le attrezzature per il completamento del nuovo palazzetto dello sport di Via del Progresso. Quindi bisogna ora fare quest'altro passaggio. Ma è ancora lungo il giorno in cui il palazzetto sarà reso fruibile, perché ancora dopo, quando si concluderanno questi lavori, che dovrebbero concludersi entro 90 giorni, poi bisognerà fare il bando per la gestione del nuovo palazzetto dello sport. e poi in quel caso, una volta completato il bando, una volta definita la gestione, in quel caso poi il palazzetto dello sport di Via del Progresso dovrebbe essere fruibile e questo sarà un giorno importante. Quando avverrà questo non è dato sapere, anche se si parla entro la fine dell'anno. Vedremo, insomma. Ora sono stati soltanto consegnati i lavori a chi si è giudicato l'appalto, ma ancora da qui all'apertura del palazzetto, all'inaugurazione del palazzetto, alla fruibilità del palazzetto dello sport. Il tempo ancora sarà tanto. Ricordiamo che la posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport è avvenuta nove anni fa esattamente. Nel 2014 è ancora il palazzetto. Di fatto non è fruibile. Dimensionamento scolastico. il vicepresidente della Regione Princino che è assessore con delega alla pubblica istituzione dice che alle province è la possibilità di tutelare i territori. Poi l'associazione Antiracet Lamezia commemora il trigesimo del socio Agripino Cataneo. Poi Campora San Giovanni chiede il distacco da Amantea e l'annessione Serra D'Aiello rimasti senza servizi essenziali. Poi c'è quest'altra notizia. In auto con 3,2 kg di cocaina nascosti sotto il sedile ci sono stati due arresti a Sellia Marina. Dopo il Gazzetta del Sud Online il lamettino.it andiamo alla prima del Quotidiano del Sud che apre con questa notizia di respiro nazionale la Premier Meloni difende le sue scelte fango su di me ma mia sorella penalizzata l'intervento della Meloni all'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia e l'incarico di Arianna Meloni nel partito. E qui a centropagina la foto di Antonio Mastroianni l'operaio che stava montando un'antenna ed è caduto dal tetto di un capannone all'area industriale di La Mezzia Terme quindi alla Mezzia altra tragedia sul lavoro Antonio Mastroianni muore appunto a 48 anni stava montando questa antenna per conto di un'azienda che si occupa di installazioni di antenne per reti internet la stava montando nel capannone di questa azienda di La Mezzia purtroppo per motivi che ora la procura dovrà accertare è caduto dall'altezza di circa 10 metri e andiamo alla notizia che abbiamo anche letto nelle altre testate processo basso profilo cade la tesi del patto col clan pena ridotta per Talarico per i giudici dell'appello non ci fu voto di scambio politico mafioso assoluzione anche in appello per il notaio Guglielmo ecco tutte le altre posizioni poi antimafia andrangheta globale qui le radici l'audizione del procuratore Bombardieri il report Calabria quasi fanalino di coda per gli stipendi l'allarme il sistema ETS rischia di far chiudere il porto di Gioia Tauro poi ambulanze usate scrive il quotidiano del sud il caso finisce la Corte dei Conti esposto presentato dal sindacato USB sulla procedura d'acquisto il ritorno del covid contagi in aumento nel vibonese è stato disposto l'aumento dei posti letto poi Crotone Talarico del partito noi moderati in contatto con più consiglieri poi scuola Vibbo dimensionamento la bozza del piano sarà rivista Reggio feste mariane l'arcivescovo dice che Reggio ha bisogno di ritrovarsi poi il comune di Catanzaro due gruppi comunali appunto due gruppi di consiglieri comunali parlano dell'isola pedonale da programmare poi Reggio Calabria ancora nel milino Angela Marciano che era stata candidata a sindaco di Reggio Calabria poi il concorso parliamo di Miss Italia Carolina Caputo la calabrese che appunto si è giudicata la corona di Miss Calabria 2023 questo era sulle pagine del quotidiano del sud all'interno troviamo anche notizie di respiro nazionale notizie che stanno tenendo col fiato sospeso tutta l'Italia come il caso della bambina Cata scomparsa a Firenze scomparsa di Cata ricordate questo caso tra gli indagati ci sono anche gli zii si indaga sia per rapiremento che per che per omicidio questo era appunto sulle pagine del quotidiano del sud che appunto stiamo prendendo in considerazione dopo il lamettino punto it e gazzetta del sud online dicevamo i casi covid che tornano a salire a vivo aumentano i posti letto nell'ospedale mentre per le ambulanze comprate usate c'è un esposto del sindacato usb alla corte dei conti poi tirocinanti la regione garantisca le risorse scrive ancora il quotidiano del sud drangheta globale qui ci sono le radici dice il procuratore bombardieri che è stato sentito dalla commissione parlamentare antimafia Angela Marciano candidata sindaco del reggio Calabria ancora nel mirino è stata incendiata l'auto del marino ma in uso appunto alla professoressa Marciano e poi assenteismo alla regione Calabria Gangemi è stato scagionato l'ingegnere rinuncia alla prescrizione poi Dalfonso Dalfonso il generale Dalfonso è il nuovo comandante della guardia di finanza della Calabria obiettivi strategici in continuità con la gestione del predecessore Geremia questo era sul quotidiano del sud poi qui la tragedia appunto della morte di Antonio Mastroianni che è morto mentre stava appunto dicendo come abbiamo già detto stava montando un'antenna tra l'altro un altro tragico destino perché il 13 settembre cioè il giorno prima della morte di Antonio Mastroianni il figlio l'unico figlio che aveva Antonio Mastroianni infatti lascia la moglie è un figlio di 18 anni dicevamo del figlio che il giorno prima del diciottesimo compleanno è arrivata questa questa tragedia il giorno prima del diciottesimo compleanno del figlio un tragico insomma una tragica un tragico destino una tragica coincidenza comune di Catanzaro sull'isola pedonale leggiamo i gruppi Catanzaro e Zure fare per Catanzaro dicono che è da programmare l'isola pedonale davanti a un piano di sviluppo e dati positivi saremo pronti a convincerci e ancora sul quotidiano questa notizia che arriva sempre da Catanzaro contrasto allo spaccio e sicurezza sicurezza stradale numerosi provvedimenti attenzione anche alla movida e all'inquinamento sonoro da parte dei carabinieri questo era sempre sul sul continente del sud la mezzia indagini sulle manifestazioni estive degli anni scorsi 2019 2020 e 2022 Calabria Fest e la mezzia in festa queste appunto ci sono delle indagini in corso da parte della procura che ha delegato la guardia di finanza che ha chiesto gli atti quindi in pratica la guardia di finanza avrebbe richiesto sul delega della procura della repubblica della mezzia alcuni atti poiché dalle indagini svolte sarebbe emerso che per nessuna delle due manifestazioni appunto Calabria Fest 2019 e 2020 e la mezzia in festa 27 e 28 giugno 2022 sarebbe stata pagata la tassa di occupazione per il solo pubblico che nessuna delibera sarebbe anche stata emessa per esentare da questo onere la società o le società che hanno organizzato tra l'altro dall'indagine è emerso che nessuno dei dipendenti comunali sentiti avrebbero indicato l'ufficio a cui compete richiedere il pagamento della tassa in questione quindi da qui la richiesta di informazioni al settore economico e finanziario del comune di la mezzia terme c'è caos anche al comune non solo per la crisi di maggioranza mentre incombe il bilancio e il DUP due pratiche che ancora devono essere approvate il DUP tra l'altro nella prima seduta nell'ultima seduta il Consiglio Comune non è stato approvato perché la maggioranza non ha avuto i numeri non basta questo ma ci sono anche continua inarrestabile la fuga dei segretari comunali dopo la rinuncia di Daniela Lampasi un dirigente comunale attualmente in servizio al comune di Catanzaro tra i papabili si tratterebbe di Simona Provenzano che forse potrebbe essere forse sarà la nuova segretaria comunale del comune della mezza sul concorso per i centri per il piano di potenziamento dei centri per l'impiego sul pasticcio della regione Calabria di questi concorsi interviene Giovanni Battista Paola della segreteria provinciale del Partito Democratico secondo il quale bisogna scongiurare la perdita di 40 posti di lavoro quindi dice Paola che si rivolge al presidente della regione Occhiuto l'ex presidente del collegio dei revisori dei conti del comune Rocconicita analizza le cause per cui i comuni vanno in predissesto e dissesto basta assumere posizioni anacronistiche piagnucolose e assistenziali a Carlopoli Piazza Greco sarà riqualificata poi la mezza summer time arriva nel centro cittadino il festival del teatro in strada da venerdì fino a domenica quindi ancora eventi estivi alla mezza a proposito di eventi estivi abbiamo letto delle indagini della finanza su eventi estivi degli anni scorsi a Crotone cambiamo territorio in contatto con più consiglieri dice il consigliere regionale Tallerico che chiarisce sulle adesioni al consiglio comunale di Crotone di nuovi esponenti del partito di Antonello Tallerico noi moderati poi abbiamo altri territori sul quotidiano Vibbo la bozza del piano di dimensionamento scolastico sarà rivista poi l'ennesima bufala di occhiuto dice il consigliere regionale lo schiavo che parla secondo il quale a quattro mesi dalla cerimonia in pompa magna tutto è fermo si parla del nuovo ospedale quindi i lavori non sono ancora iniziati poi Vibbo Marina figure che danno lustre al territorio l'imprenditrice Marino il medico Nardo e i vigili del fuoco della frazione di Vibbo Marino sono stati premiati poi scompare la poliziotta Rosa Scafa prima donna a entrare nel corpo della polizia prima donna Vibbonese poi Tropea Cottolengo le suore vanno via dopo quasi cento anni religiose lasceranno la gestione dello storico asilo poi Tropea turismo in città ancora numeri da record Tropea la cittadina meta del turismo itinerante e esperenziale il sindaco Macri parla di promozione del territorio sempre a Tropea riprendono i seminari dell'associazione Antroposso si svolgeranno preso la casa della carità di Tropea a Pizzo aree verdi abbandonate in città monta la protesta a Zambrone è stata celebrata la giornata europea della cultura ebraica scrive il quotidiano del sud Carlotta Caputo e Miss Calabria 2023 la giovane regina 17 anni ha conquistato la finalissima di Miss Italia a finalissima della Miss Italia regionale andata in scena nel borgo di Oriolo quindi questo era sempre sulle pagine del quotidiano del sud ci torneremo tra poco sulle pagine del quotidiano del sud quando come sempre ci avvieremo alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali in tv con lo sport ora prima uno sguardo alle alle prime pagine uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola prima appunto di passare allo sport partendo come sempre la prima pagina che appunto leggiamo il principale dito che leggiamo come sempre partiamo dal Corriere della Sera ecco qui dunque la prima pagina del Corriere della Sera che titola sanatoria su contanti e valori poi la Repubblica Berlino e Parigi stop migranti all'Italia Meloni scivola sulle banche poi la stampa l'Europa punisce l'Italia libero Francia e Germania ci mollano i migranti e questo era appunto sul quotidiano libero il giornale le spese allegre di Landini sindacalisti o padroni il segretario della CGL definisce il portavoce un lusso e lo licenzia ma di lapida 2,7 milioni di euro in comunicazione il fatto quotidiano io patria e famiglia ecco tutti i parenti fratelli d'Italia regione per regione familismo Meloni difende la sorella la sorella appunto che la numero uno del partito di fratelli d'Italia penalizzata dal cognome il tempo Parigi e Berlino blindano i confini a proposito dei migranti la verità Burioni attacca la verità sparando balle sui vaccini poi domani banche infuriate e incubo o manovra ma Meloni evoca fango e complotti il messaggero pensioni part time in anticipo e poi sul manifesto c'è un riferimento al terribile terremoto in Marocco ecotombe scrive il manifesto ora per concludere andiamo alle alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e poi concluderemo con lo sport del quotidiano del sud la gazzetta dello sport Ridi Italia battuta per 2 a 1 l'Ucraina Spalletti ci rilancia doppietta di frattesi vittoria importante per la qualificazione agli europei del 2024 Pogba che botta il caso Juve pronta a recidere il contratto appunto trovato positivo al testosterone poi il correde dello sport stadio siamo vivi a proposito dell'Italia ritmo personalità i due gol di frattesi l'Italia si sveglia e batte 2 a 1 l'Ucraina poi su tutto sport attenzione doping Pogba c'era scritto sarebbe un integratore americano la causa della positività poi su tutto sport frattesi d'Italia il quotidiano sportivo QS ecco l'Italia di Spalletti per concludere andiamo al quotidiano del sud serie D regina regina o fenice ora si parte quindi nel nuovo calendario esordio della fenice amaranto ad acireale ma si rinvia si aspetta solo l'ufficialità poi serie B cosenza pronto per il sud Tirol Catanzaro arriva una corazzata il Parma serie C il crotone a caccia del riscatto siamo arrivati con lo sport del quotidiano del sud alla conclusione come sempre del nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina facebook sulla nostra piattaforma youtube i nostri appuntamenti come sempre ogni giorno alle 14 poi le repliche alle 20 e alle 7 e 30 come sempre siamo partiti dai quotidiani online poi siamo andati al quotidiano del sud principale titolo del quotidiano nazionale e abbiamo concluso con lo sport da Pasqualino Rettura è tutto grazie per averci seguito fin qui con i giornali in tv vi diamo appuntamento alla prossima edizione